Le feste pasquali sono solo un ricordo, a Vibua Valencia si ritorna alla normale routine, strisce blu comprese, quei parcheggi a pagamento mal digeriti dei cittadini, nonostante un incoraggiante bilancio mensile del comandante della Polizia Municipale Filippo Nesci, che sul quotidiano della Calabria sciorina numeri e cifre con un entusiasmante virgolettato in cui sostanzialmente commercianti e cittadini, secondo il numero uno dei vigili urbani, avrebbero iniziato a comprendere la positività del servizio. E allora ci mettiamo in macchina, acquistiamo il giornale e facciamo leggere l'articolo agli stessi protagonisti della vicenda, residenti ed esercenti, partendo da Vibomarina, la frazione in cui si sono registrate le più vibrate proteste su un servizio che da queste parti praticamente a nessuno è andato giù. Non sono d'accordo sulle strisce blu in un paese così piccolo, questo è un paese, non è una città con tutti i servizi. Vibomarina insomma più che le strisce blu aveva bisogno che fosse regolamentato il traffico. Abbiamo dei problemi, qui si litiga un po' dove mettere la macchina, la mettiamo di qua, poi di qua c'è il divido di sosta, di là invece ci sono le strisce blu e quindi insomma c'è un problema proprio logistico anche, non so se era il caso di mettere queste strisce blu. Mi sembra abbiano ecceduto troppo perché tante strisce blu, tante strisce bianche ci dovrebbero essere, ma qua di bianche non se ne vedono proprio. Siamo aggrediti, mi sembra di essere una cosa d'accordo che ci vuole un po' d'ordine, però così mi sembra troppo esagerata la cosa. Che cosa devo comprendere? Che si paga? Che c'è niente da comprendere, dobbiamo pagare e basta, sbagliatissimo perché noi a Vibomarina non abbiamo visto niente di buone ancora, solo le strisce blu. Questa è la situazione, mi auguro che questa amministrazione casca presto. Alessio Buonpasso per la CINUS24